Powell si dimostra coerente e conferma i tre tagli di tassi per il 2024 sorprese tra le alche banche centrali listini azionari su nuovi record buongiorno a tutti benvenuti alla nostra consueta analisi sugli indice vi invitiamo ad iscrivervi e ad abbonarvi al nostro canale youtube così da poter vedere in anteprima i nuovi video che andremo a caricare vi ringraziamo fin d'ora per il like che vorrete lasciarci per questa nostra analisi vi era molta attesa per quello che avrebbe detto la fed questa settimana non tanto per quello che avrebbe deciso per questa riunione era ampiamente scontato che ci sarebbe stato nulla di fatto ma per le parole che il presidente Powell avrebbe pronunciato per dare al mercato il polso di quello che la fed ha intenzione di fare prossimamente la conferma delle parole di dicembre ossia dei tre tagli confermati per l'anno in corso a partire da giugno o luglio e poi probabilmente per le sedute di settembre e dicembre hanno riportato all'ottimismo sui listini azionari che invece iniziavano a temere a una riduzione a soli due tagli per il 2024 i listini azionari entrano così nella settimana santa sui massimi storici o di periodo per quello che riguarda piazza affari sarà una settimana corta in quanto tutti i mercati osserveranno la festività di venerdì santo il venerdì 29 poi wall street riaprirà regolarmente lunedì primo aprile mentre per quello che riguarda i listini europei riapriranno direttamente martedì 2 aprile per quella che sarà la seconda settimana corta consecutiva la fed però non era l'unica banca centrale che ha parlato in settimana e non sono mancate infatti le sorprese la bank of japan ha alzato i tassi per la prima volta in 17 anni e uscendo dal tasso negativo e se andiamo a guardare la reazione euforica che ha avuto il nikkei con un più 5 63 per cento peraltro in quattro sedute in quanto mercoledì 20 era festa a tokyo non possiamo dire che questo questa decisione del rialzo sia stata accolta male dal mercato rialzo dei tassi a sorpresa per la banca centrale di taiwan mentre era sostanzialmente atteso il rialzo del 5 per cento della banca centrale turca che ha apportato i tassi dal 45 al 50 per cento la banca centrale australiana e la banca centrale inglese hanno lasciato i tassi fermi mentre a sorpresa la banca centrale si sarà tagliato di 25 punti base insomma è stata una settimana piena di sorprese e di conferme per le banche centrali dovremo ora attendere l'11 aprile per avere la decisione della bce che molto probabilmente si allineerà con la fed per un nulla di fatto in questa riunione e annuncerà tagli presumibilmente per le stesse date indicate dalla banca centrale americana andiamo a vedere quindi cosa è accaduto questa settimana sui listini questo è la dodicesima settimana performance come vedete tutte positive un poco più dell'1 per cento per quello che riguarda i listini europei mentre gli incrementi a wall street sono stati tra il 2 e il 3 per cento spicca il più 13 e 15 di milano come saldo annuale unico listino ad essere in guadagno a doppia cifra dopo due settimane andiamo quindi ad aprire il grafico di piazza affari eccoci qua prosegue il rialzo di milano più 1 e 18 per cento questa settimana ma oltre ad essere l'unico listino o perlomeno il listino che è salito meno di tutti questa settimana quello che registriamo è una evidente apperciado che potrebbe indicare come qualcuno stia iniziando a prendere beneficio dopo quasi due mesi di salita ininterrotta sono stati testati 34.600 punti 34.601 è il massimo segnalato e chiusura comunque a 34.343 punti il che non preclude affatto che si possa proseguire nelle prossime settimane per arrivare ai 35.000 punti e anche oltre ma è in ogni caso evidente come dopo la salita così ripida una pausa per riprendere fiato sia necessaria oltre che fisiologica poi sappiamo bene che i mercati sono fatti per sorprendere e potrebbe essere che si salga per altre 8 settimane consecutivamente l'importante però è farsi trovare preparati per quando il mercato deciderà di invertire momento e movimento che potrebbe essere brusco e repentino potrebbe benissimo essere un movimento di due sedute massimo tre ma violento che possa portare giù anche 2000 punti e poi con altrettanta rapidità riprendere la via del rialzo. I volumi sono decisamente calati vedete sono leggermente sopra alla media ma decisamente in ribasso rispetto alle due settimane precedenti. È probabile che i volumi caleranno ancora nelle prossime due settimane abbiamo detto che saranno due settimane corte per via delle vacanze pasquali e quindi sarà molto importante capire e percepire le varie sfumature che si respireranno sul mercato appunto nelle prossime giornate. Andiamo a guardare quanto è accaduto invece sul DAX, candela decisamente diversa sul DAX che registra un nuovo massimo storico a 18.205 punti per andare poi a chiudere a 18.205 punti la settimana. Anche qui i volumi come vedete sono in calo. Diciamo che rispetto a Milano per il listino tedesco una delle possibili spiegazioni è il dato dell'IFO che è uscito sopra le attese e che potrebbe dare quindi la fiducia per il futuro. È vero che il dato uscito è ancora molto basso anche guardando i dati dell'estate scorsa ma sappiamo bene che un lungo viaggio inizia comunque con un primo passo e che il mercato guarda comunque sempre avanti. Primissimo livello di supporto per il DAX potremmo prendere il riferimento del numero tondo dei 18.000 punti mentre possiamo cominciare a vedere in lontananza la prima resistenza in area 18.530 dove passa per la prossima settimana questa rialzista che viene da molto da molto lontano. Wall Street ha festeggiato le parole di Powell con rialzi tra il 2 e il 3% e nuovi massimi storici ma le notizie dagli Stati Uniti non si limitano a questa. È infatti arrivata nelle prime ore di sabato la votazione favorevole del Senato che approva la risoluzione già votata alla Camera e che evita lo shutdown di numerose agenzie federali chiave almeno fino a settembre. Non solo è giunta la conferma che la società di Trump che gestisce il suo social verrà quotata a Wall Street tramite una SPAC da lunedì e pertanto la sua quota di Trump in azioni dovrebbe avere un valore che si aggira circa sui 3 miliardi con l'ex presidente che era la caccia di circa 500 milioni di dollari da depositare in tribunale quale cauzione per una condanna civile dello scorso febbraio. La legge gli permetterà di offrire le sue azioni come garanzia al tribunale e questo gli permetterà di proseguire la sua campagna elettorale a ritmi serrati come invece si temeva non potesse più fare se non avesse pagato questa cauzione. Un recente sondaggio vede sempre Trump e Biden alla pari anche se da un altro sondaggio si evince come la posizione del presidente Biden sia tornata ad essere sui massimi livelli di fiducia da parte del suo elettorato. In questo momento è sparito dai radar della stampa il nome di Michelle Obama e la vicepresidente Harris aveva espressamente e pubblicamente detto che non aveva assolutamente gradito che circolasse questo nome anche perché se ricordiamo al momento nella scorsa tornata elettorale si era a un certo punto parlato di un primo biennio con il presidente Biden e il secondo biennio guidato dalla stessa Harris. Quindi la Harris probabilmente si sarà un attimino impuntata e avrà detto signori se volete l'Obama vi scegliete un altro vicepresidente altrimenti si va avanti con Biden che se poi si vorrà togliere di mezzo e subentrerò io come presidente. Questo grosso modo deve essere stato quanto accaduto all'interno del campo democratico. Andiamo quindi a vedere i grafici, partiamo dal Dow Jones, dopo tre candele rosse che però come avevamo ricordato anche la settimana scorsa non sono andate a inficiare il minimo della precedente candela verde quindi sono state tre candele sostanzialmente di rifiato. è partita la candela che è andata a registrare il nuovo massimo storico a 39.889 punti poi però vedete una upper shadow abbastanza pronunciata come quella che abbiamo già visto sul grafico di Milano la chiusura a 39.475 punti volumi anche qui in calo benché è ancora nettamente sopra la media quindi una situazione abbastanza interessante si è ripartiti ma comunque l'aria dei 40.000 comincia a farsi sentire tipo effetto mancanza di ossigeno, rarefazione di aria in alta montagna. Andiamo a vedere in ogni caso il supporto, il primo supporto lo possiamo prendere come il minimo della candela verde quindi intorno ai 38.330 punti quindi un supporto in questo momento che come abbiamo visto dalle scorse settimane è abbastanza affidabile. Andiamo a vedere quello che è accaduto invece sul listino tecnologico anche qui interessante, ha rifiatato due settimane dopodiché con una sola candela ha recuperato il quanto aveva perso nelle due precedenti è andato a chiudere a 18.339 punti al di sopra della resistenza dinamica che quindi ora è primissimo supporto ma soprattutto è andato a registrare un nuovo massimo storico a 18.464 punti anche qui vedete i volumi sono decisamente calati e sono rimasti comunque nella media test delle due rialziste per cui diciamo che Nasdaq continua ad andare bene a questo punto però fermo restando il nuovo massimo storico registrato è evidente come i 18.300 punti andiamo a vedere con una riga come i 18.300 punti siano state due chiusure e una apertura di candela quindi se escludiamo le due shadow sostanzialmente è questo dei 18.300 il livello importante da rompere per il Nasdaq se riuscirà a breccare definitivamente questo livello è ovvio che potrà fare un nuovo allungo rialzista per nuovi massimi storici chiudiamo infine la nostra analisi con S&P 500 che in questo momento è il listino che ha l'impostazione migliore aveva avuto due settimane nelle quali aveva avuto difficoltà a superare la resistenza dinamica ma vedete era rimasto sempre lì attaccato a quel livello su questa settimana breakout netto deciso nuovo massimo storico a 5.261 punti chiusura a 5.234 punti netta perentoria senza nessun dubbio quindi primo supporto che per la prossima settimana sarà sui 5.165 punti dopodiché se son rose fioriranno e il S&P 500 potrà puntare verso quote ancora superiori del resto lo avevamo detto in queste settimane 5.200 era un livello dato per S&P 500 come livello finale per il 2024 ma in tre mesi c'è già arrivato ed infatti stanno facendo nuovi numeri per S&P qualcuno si spinge a dire anche 6.000 punti forse sono eccessivi vedremo comunque come evolverà la situazione con questo è tutto vi ringraziamo per averci seguito fin qui vi ringraziamo per like che ci vorrete lasciare per qualsiasi informazione sui nostri servizi vi invitiamo a scrivere a infochiocciolamactrader.it non ci resta che augurarvi buona domenica